Siamo con l'assessore Argiolas quando dichiara che occorre andare oltre il turismo balneare. Non condividiamo la tesi che troppi turisti provocano un carico che la Sardegna non può sopportare. Ma ci piacerebbe che l'assessore si impegnasse di più per arrivare velocemente alla spendita delle risorse previste dalla legge sulla destagionalizzazione. Così il consigliere regionale di Forza Italia Marco Tede commenta le dichiarazioni rese dall'assessore del turismo in un convegno del Ghero che ha parlato di troppi turisti in Sardegna nel periodo estivo. E' evidente che se i flussi turistici sono concentrati in 50 giorni il carico antropico è alto ed è altrettanto evidente, sottolinea l'ex sindaco di Alghero, che occorre quindi mettere in campo azioni che destagionalizzino e puntino a captare altri flussi turistici da spalmare su 9 mesi all'anno ad integrazione della stagione balneare. Fermo restando, rimarca Tede, che per far arrivare i turisti tutto l'anno occorrono trasporti efficienti, una buona qualità della ricettività e dei servizi e prezzi accessibili. Per migliorare la qualità occorre una legge urbanistica proiettata verso il miglioramento dell'offerta coniugata al rispetto dell'ambiente e del paesaggio. Intanto si attende la spendita degli oltre 40 milioni di euro stanziati che devono essere spesi entro il 2017 per favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici e distribuirne i benefici sull'intero territorio regionale. Ma siamo costretti a rilevare, conclude il rappresentante regionale di Forza Italia, che ancora non è stato pubblicato nemmeno il bando e alla fine dell'anno mancano solo pochi mesi.